Professor De Giglio, vogliamo spiegare questa mattina quello che illustrerete, si parla di novità diagnostiche e organizzative della radiologia dell'ospedale di Pescara. Abbiamo messo due nuove TAC da 128 strati, è in procinto di essere aggiudicata la risonanza da tre Tesla e insieme alle due università abbiamo fatto un piano formativo, abbiamo dato il nome Radiologia 4.0 per cercare, essendo io stato nominato come Presidente del Gruppo Regionale dei Radiologi Abruzzesi, per omogenizzare tutte le procedure tecniche, cioè l'esame fatto a un certo livello deve essere uguale sia a Pescara, sia a Chiedi, sia all'Aquila e sia a Terme e questo rientra in questo progetto di tecnologia informatizzata e intelligente di Radiologia 4.0. Questo è possibile con l'ausilio delle nuove tecnologie, noi lo stiamo facendo su tutte e due le TAC, e più facilmente eseguibile su procedure eseguite in acuto e iperacuto, come noi siamo il punto di riferimento per l'ictus, per il trattamento endovascolare dell'ictus, degli aneurismi e delle MAV cerebrali. A tal proposito abbiamo stilato un accordo da poco che sarà sottoposto e bagliato dalla nostra direzione generale con l'ospedale di Termoli e Campobasso. Naturalmente tutto questo che cosa comporta? Comporta un'accelerazione nell'esecuzione degli esami, in maniera tale che viene fatta allo stesso modo da tutti e una riduzione anche di quelle che sono le liste attese. Noi riusciamo con le nuove tecnologie che abbiamo acquisito in questo ultimo anno e anche nel 2017, riusciamo finalmente a invertire una fuga verso l'esterno per quanto riguarda le diagnostiche radiologiche e anche per la terapia che in radiologia si può fare, la radiologia interventistica. Quindi riusciamo ad invertire questo flusso e questo è un vantaggio non tanto economico per l'azienda quanto per l'utenza che non deve più recarsi fuori per fare alcune analisi, alcuni tipi di esami.